I 5 momenti imperdibili della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018, trasmessa lunedì 29 gennaio, è partita con il botto. Pochi minuti dopo la sigla iniziale, infatti, i naufraghi si stavano già zuffando. Il motivo del contendere, le accuse di Eva Enger poi eliminata Francesco Monte. A suo dire, il giovane avrebbe portato della marijuana sull'Isola, nonostante fosse proibito. Il gruppo dei naufraghi, inoltre, si è arricchito di due nuovi personaggi, il mimo Simone Barbato e la showgirl Elena Morali. Se vi siete persi la puntata, ecco il succo di quanto accaduto in 5 punti. Eva Enger accusa Monte di aver portato droga sull'Isola. Eva Enger, proprio al principio della puntata, ha attaccato Francesco Monte. Ha accusato il naufrago con parole decisamente forti, hai portato la droga all'Isola dei Famosi, devono squalificarti. Dunque, ha aggiunto che Monte avrebbe fumato marijuana durante la permanenza nella casa. Il giovane si è difeso accusando la showgirl di mentire e invitandola a moderare Tony, poi ce la vediamo in tribunale. Alessia Marcuzzi è intervenuta chiarendo che per quanto la riguarda, il gioco è iniziato lunedì scorso e non era a conoscenza di quanto presumibilmente accaduto nella casa. Simone Barbato ed Elena Morali Nuovi Naufraghi. Finalmente è stata svelata l'identità del naufrago misterioso. A entrare a far parte del cast del reality è il mimo Simone Barbato. Il suo non sarà un compito facile. L'uomo, che il pubblico ha conosciuto nel programma Avanti un altro, dovrà rubare il cibo ai naufraghi che si trovano sull'isola del Peor, senza farsi beccare da loro. Barbato ha dichiarato di non essersi mai innamorato. La partecipazione all'isola dei famosi 2018 potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per trovare l'anima gemella. Nella seconda puntata è entrata in gioco anche Elena Morali. Partecipa all'isola per ritrovarsi e mettere da parte le sue ansie. La showgirl ha svelato candidamente, mia madre dice che se voglio mettere via le mie ansie devo andare a zappare. Lei, a differenza di Simone Barbato, ha raggiunto il resto del gruppo e vivrà con loro sull'isola del Major. Eva Enger è la prima eliminata dell'isola dei famosi 2018. . La polemica che si è innescata tra Eva Enger e Francesco Monte non ha giovato al percorso della showgirl nel reality. Il risponso della prima nomination che vedeva Eva al televoto con Marco Ferri, infatti, è stato impietoso. La Enger è la prima eliminata dell'isola dei famosi 2018. Ma Aravenier non è apparsa sorpresa, me lo aspettavo. . Eva ha commesso degli errori, dovuti al rancore e alla rabbia. . Ha tirato fuori un episodio doloroso della vita di Francesco, il tradimento di Cecilia, NDR, e oggi questa accuse è. . Bossari benedice il bacio tra Monte e Paola di Benedetto. . Nella prima puntata, si è parlato brevemente anche del bacio tra Francesco Monte e Paola di Benedetto. Alessia Marcuzzi ha dato la parola al padre del naufrago che ha dichiarato, Io sono contento quando vedo contenti i miei figli. . Probabilmente cè un feeling tra loro. . Lo vedo sereno. . . Poi si è espresso Daniele Bossari, che nel corso della partecipazione al Grande Fratello Vipa ha avuto modo di assistere alla nascita dell'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. . L'opinionista ha commentato, uno potrebbe immaginare una vendetta da parte di Francesco per ciò che gli è accaduto ma credo sia sincero affetto. . Lei ha sentito che la telecamera la stava riprendendo, mentre lo baciava infatti ha aperto gli occhi e era un modo per ufficializzare questa relazione. Poi, per tagliare la testa al toro, ha chiesto l'Umi direttamente a Monte, Francesco, Paola può essere considerata il tuo punto di partenza? Ma il naufrago si è limitato a dire, non ti sento. . . Le gaffe di Stefano Dei Martino Il caso del clistere. . Infine, impossibile non parlare di doppi sensi, gaffe e discorsi alquanto singolari da trattare in tv. Stefano Dei Martino deve ancora prendere dimestichezza con il ruolo di inviato. . Certo, si sta cimentando con un compito del tutto nuovo per lui. . 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